Il commercio in modo particolare in crisi, anche se il comparto manifatturiero accenna un lieve miglioramento, la situazione insomma è quella che è, ma bisogna avere comunque elementi di fiducia. Beh, in termini quantitativi diciamo che abbiamo i tre settori che sono il manufatturiero, l'agricoltura e l'edilizia, insomma in calo quantitativo, in termini qualitativi invece sono settori che stanno riprendendo gradualmente anche nel primo mese del 2014 abbiamo questa percezione, indubbiamente c'è una crisi che ancora stenta ad avviare la propria soluzione, quindi noi ci riteniamo soddisfatti per questa provincia che in un qualche modo, come dire, comincia a riprendere il suo ruolo guida nell'economia. Ancora non sia un dato concreto ma sicuramente il settore del commercio anche con il piccolo commercio e quello che ad inizio anno insomma sta facendo notare soprattutto in città il calo di diverse seracinesche. Beh, anche qui purtroppo abbiamo quantitativamente un più 3,8 in termini di incremento di imprese. Ovviamente questo la dice lunga probabilmente sugli spazi che si stanno generando e quindi saracinesche piuttosto che chiusure, trasferimenti e quant'altro. È il settore più in crisi d'altra parte, non potrebbe essere così vista la perdita di posti di lavoro, la perdita di redditualità ma anche la perdita di un sentiment positivo che è ottimistico, che molto spesso induce al consumo. L'appuntamento di oggi non è solo un modo per tracciare numeri, per dare i risultati di ciò che è stato ma anche un momento per pensare a quello che sarà. Beh, sicuramente per noi è anche la giornata della trasparenza, quindi indici di trasparenza che ci segnalano una delle migliori camere a livello nazionale. Abbiamo un'ottima considerazione da parte dell'utenza sulla customer satisfaction e ovviamente abbiamo questa propensione agli investimenti e quindi all'utilizzo delle risorse a favore delle imprese che ci gratifica.